E vinciamo 4 a 2 a Torre del Greco, vittoria importantissima, assolutamente non scontata, una bella partita piena di occasioni, piena di emozioni da una parte e dall'altra, un crotone che porta a casa tre punti, quello che ci interessava, quello che aspiravamo a fare ovviamente quest'oggi, una vittoria che ci permette di tenere il passo di Pescara e di Catanzaro, Pescara scavalcato, 25 punti, Catanzaro sempre a meno 3 e prossimo match assolutamente importante, vi ricordo, in casa all'uscita col Picerno, squadra ostica che lotta per la salvezza, che sicuramente verrà crotone per il pareggiotto, diciamo, per fare un punto al massimo, perché magari vincerà, però l'obiettivo secondo me sarà poi quello e quindi sarà importante che quella farla nostra. Detto ciò, vittoria, tutto sommato meritate in una partita comunque in cui ci sono stati diversi episodi arbitrali, da una parte e dall'altra, la Turis che reclama per un fuorigioco di Cargbo sul gol dell'1-1, per quanto secondo me non è fuorigioco perché c'era Maniero che lo teneva in gioco, poi ovviamente noi, in quanto spettatori, non possiamo valutare perché la telecamera è posizionata in un'angolazione tale che è impossibile dire fosse avanti o meno, così come anche Maniero sul primo gol, se vogliamo, poi proteste anche per il possibile fallo di Mogos, prima che avvenisse poi il gol del 4-2, che poteva cambiare ovviamente le sorti del match, lì anche quello difficile un po' da valutare, ma più che altro perché Mogos stava per, cioè praticamente la palla era nella disposizione di Mogos perché aveva protetto palla, poi frana all'indietro sull'attaccante, ma lì onestamente non so neanche che cosa dire perché è un po' fallo di entrambi alla fine, quindi posso anche capire perché l'arbitro abbia lasciato correre, ma al dia di questo un crotone che oggi ha meritato per quanto creato sullo 0-0, cioè prima del gol del vantaggio della Turris, anzi in realtà diciamo prima del gol del pareggio di Cargbo, abbiamo creato 4-5 occasioni clamorose, buttate completamente per errori negli ultimi metri con Cargbo, con Gomez, veramente una dopo l'altra e sicuramente sotto questo aspetto bisogna migliorare per quanto abbiamo comunque fatto e realizzato 4 gol. Allora, primo tempo tutto sommato positivo, giocato a ritmi alti, avviso aperto da entrambe le squadre, un crotone che nei primi minuti approccia abbastanza bene alla partita, tra l'altro una situazione dubbia al minuto 4 avviene a favore nostro perché cross di Gironda alla sinistra per Cargbo che è in mezzo stop alla palla, attenta il tiro, un difensore avversario colpisce la palla, forse con il braccio dalle immagini si è capito poco, Cargbo ha protestato, anche lì episodio dubbio che è difficile da valutare e quindi diamo per buono quello che ha deciso l'arbitro e poi in una fase di gara in cui come dicevo si gioca a viso aperto, le occasioni si creano aggrappoli da entrambe le parti, ma in particolare il crotone che grazie alle sovrapposizioni, grazie al cross dalle fasce si rende molto molto pericoloso, una Turris che cerca di ripartire in questa fase sfruttando i nostri errori però non è che crei particolari pericoli se non poi il gol di Maniero. All'odicesimo infatti buona azione da parte della Turris che con Leonetti mette questo cross basso in mezzo sul secondo palo, tutti fermi quelli del crotone, sbucca Maniero che trova il gol del vantaggio. Arriva poi al ventinovesimo dopo tra l'altro un crotone che nei primissimi minuti successivi al gol subito abbiamo un po' sofferto, comunque non siamo riusciti ad agire però a lunga siamo riusciti fuori e dal ventesimo abbiamo iniziato a macinare ancora una volta occasione, nel ventitresimo ottimo tiro da fuori di Chiricò che sbatte sul palo e poi al ventinovesimo dopo una serie di calci d'angolo Tribuzzi mette questa palla alla sua terra in mezzo che ricorda moltissimo il gol del vantaggio della Turris, sul secondo palo sbucca Cargo, la stoppa e batte Perina 1-1, crotone che finalmente trova il gol, anche qui proteste per un possibile fuorigioco ma ripeto quello che ho detto anche inizialmente, il crotone che poi è bravissimo a fare subito il secondo, dopo tra l'altro anche qui proteste per un possibile fallo di Cargo sul calciatore avversario, non ricordo chi fosse, fatto sta che l'arbitro non concede nessun tipo di punizione a favore della Turris, angolo battuto da Petriccione che su primo palo trova Gomez che di testa fa gol, contento di aver fatto gol anche sul calcio piazzato che non è cosa da poco. Tra l'altro crotone che poi al 36esimo ha avuto anche un'occasione importante con Giron che tende al tiro da fuori, palla che sbatte però sulla traversa. Ultimi minuti in cui la Turris in realtà reagisce all'ammazzata all'1-2 del crotone e spingendo soprattutto dalla parte di Onetti perché loro hanno attaccato quasi sempre dalla parte sinistra, da dove noi abbiamo Calapai diciamo, ecco una Turris che reagisce e che mette diversi cross pericolosi in mezzo, crotone che soffre perché tutto sommato soffre, tenta di ripartire sfruttando comunque gli errori avversari ma non riesce ad essere incisivo. Non concediamo chissà che occasioni però hanno loro il pallino del gioco se vogliamo e ci mettono un po' in difficoltà. Così avviene per tutto l'alco del secondo tempo, un crotone che abbassa notevolmente il baricentro e per tutto l'alco del secondo tempo gioca veramente poco palla a terra. Lancia la parina avanti, dà la difesa verso gli attaccanti per cercare poi anche di sfruttare le seconde palle anche perché loro comunque al centro campo hanno concesso tantissimi spazi sulle fasce idem e quindi in un certo senso in vantaggio crotone che ha deciso di usare, utilizzare questo tipo di modo di giocare se vogliamo e comunque lottiamo sotto i palloni per carità, siamo molto aggressivi, siamo concentrati, attenti e bravi comunque ripartenti a sfruttare le loro lacune. Tra l'altro al cinquantesimo è possibile fallo su Calapai, altro è preso da dubbio, ma qui rigore che onestamente non avrei dato assolutamente quindi va benissimo che l'arbitro abbia lasciato correre e al cinquantunesimo poi arriva il gol del 3-1. Lancio di gol e mi c'è per Gomez. Quella è la situazione che vi dicevo io, lancio per la prima punta, seconda palla, Tribuzzi recupera il pallone, avanza in perterrito, nessuno lo ferma e tira una sassata sul primo palo che trova così il 3-1 che ci mette relativa tranquillità. Una parità abbastanza equilibrata, poi anche nella prima parte sostanzialmente in cui il crottone rischia poco e in cui, come dicevo, si conferma comunque una squadra che crea, che c'è e che è presente in campo. Nella fase centrale, come dicevo, forse siamo un po', anzi, siamo sicuramente calati, abbiamo abbassato ancora di più il baricentro, abbiamo fatto fatica a ripartire, sofferto la manovra della Turris che, ripeto, non crea chissà quali pericoli, però soprattutto poi dopo il gol, diciamo che, anzi, dopo il gol nostro, il gol di Tribuzzi, hanno anche qualche situazione importante per poter poi riaprire eventualmente la gara. Arriva poi il gol del 3-2 al 71esimo, dopo una rimessa nata da un parapiglia tra chi ricò è un calcettore avversario, anche qui arbitro che lascia correre, si sviluppa l'azione da una parte all'altra del campo con questo cross da sinistra in mezzo che trova Maniero, il quale svetta su Giron e così permette alla Turris di sperare ancora in un possibile recupero finale, però tutte le speranze sono vane perché al 79esimo, dopo, ripeto, il possibile fallo di Mogos, arbitro che non vuole comunque fischiare i calci di rigore, riparte così l'azione del Crotone con Petricione che di prima lancia per Cargbo, il quale avanza verso l'area, la mette, mette questa palla all'asoterra che attraversa tutta l'area e che trova sul secondo palo Chiricò, che così ci permette di affrontare gli ultimi minuti con relativa tranquillità perché poi anche negli ultimi minuti la Turris ha avuto due occasioni con un tiro da fuori di Frascatore e un tiro di Santaniello dopo un calcio d'angolo che potevano sicuramente riaprire il match ulteriormente, ma un Crotone che si difende, devo dire, abbastanza bene, qualcosina abbiamo concesso perché, c'è da dirlo, la Turris si è resa comunque pericolosa ma hanno un ottimo reparto offensivo, quindi è anche normale che creino dei pericoli alla nostra rettoguardia, per il resto Crotone che nel secondo tempo tutto sommato ha retto, ha trovato i gol nei momenti giusti, soprattutto il 4-2 decisivo per la vittoria finale in quel momento proprio specifico della partita, quindi sotto questo aspetto molto bene. C'è molto da migliorare perché non si può fare gol al 29esimo dopo aver avuto 4-5 occasioni clamorose, lì una squadra, perché la differenza che in questo momento noto tra Catanzaro e Crotone è quello, cioè anche il Catanzaro crea tanto, ma con quelle 4-5 occasioni il Catanzaro stava già 2-3-0, quella è la differenza, bisogna essere molto ma molto più incisivi, perché oggi comunque siamo stati bravi a ribaltare la partita, però non sempre è così facile, ecco, perché comunque loro hanno concesso tanto dietro. Oggi abbiamo creato innumerevoli occasioni anche per limiti avversari nella fase difensiva, non sempre abbiamo così tante occasioni, quindi è necessario essere più incisivi, ma questo lo ripetiamo dalla prima giornata. Occasioni pericolose 4-9 e velocemente il mini pagelle, bene direi quasi tutti, Golemi, c'è ottima prestazione difensiva, sempre attento, bene, bene anche Cuomo, anche lui buoni interventi, anche nei contrasti, bene anche Petriccione, geometrie, dà geometrie alla manovra, ottimi passaggi, fatti di impostazione assolutamente bene, bene anche Gomez che ha lottato, che ha corso, ha trovato il gol, poteva farlo anche in altre situazioni, però tutto sommato buona prestazione, così come Cargbo, che non l'ha paghito molto bene, perché ha sprecato tanto nei primi minuti, però poi ha trovato il gol e è stato sempre una spina nel fianco della difesa avversaria. Allora, male, vi dico Chiricò, vi dirò due giocatori che hanno fatto male, ma male io intendo per giocatori che hanno fatto, che potevano fare di più, non che hanno fatto malissimo da 4 in pagella, però che potevano fare di più. Chiricò ha fatto gol, ha anche colpito un palo, però secondo me poteva fare di più, perché l'ho visto un po' in alcune situazioni andare con il freno a mano tirato, soprattutto forse nella fase centrale della partita, però per il resto non malissimo, ma poteva fare di più. Migliore in campo invece Tribuzzi, che ha dato tanta qualità alla manovra, sempre supporta la fase offensiva, sempre pericoloso, gol molto molto bello e assolutamente migliore in campo, peggiore o comunque quello che ha convinto secondo me meno, Aua, che oggi non l'ho visto molto, cioè sia in fase di impostazione che in fase di interdizione, oggi non mi ha entusiasmato Aua, quindi non ha fatto una brutta prestazione, però in confronto agli altri vi dico meno bene, ecco. Io a questo punto vi saluto, alla prossima, ciao ragazzi!